Ciao a tutti! Finalmente, 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 posso darvi il benvenuto in questo video ASMR speciale dedicato ai centomila iscritti al canale. Grazie, 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 grazie al profondo del cuore per essere oltre centomila fatine e delfetti e per aver scelto questo video che oggi. Per chi non mi conoscesse, io sono Federica e questo canale si chiama Facebook ASMR, mi raccomando iscriviti se vuoi vedere video rilassanti. So che stavate aspettando questo video già da un po', perché il traguardo è stato in effetti superato da qualche mese, però sto aspettando anche io qualcosa che vi mostrerò nel corso del video. Ho preparato un video davvero molto 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 speciale, un video interattivo al termine del quale potrete scegliere cosa guardare, che vi spiego tutto tra poco. Intanto, se non lo avete già fatto, indossate le cuffie oppure gli auricolari, lasciate un bel mi piace e mettetevi comodi, perché stiamo per iniziare. Eccomi di nuovo. Come vi dicevo all'inizio, questo è pensato come un video interattivo, ciò significa che voglio rendervi protagonisti e partecipi di questo percorso. Infatti, a fine video vi appariranno qui dei video sui quali potrete cliccare e questi video rappresentano un po' il bello e il brutto di youtube e di questa mia grande avventura. Fanno parte dello speciale per i 100.000 iscritti, quindi mi raccomando andateli a guardare e lasciate anche un segno del vostro passaggio, oltre ovviamente a un pensiero felice qui sotto. Ho deciso di dedicare uno dei percorsi ai vostri saluti. Sempre un po' di tempo fa vi avevo chiesto se vi andasse di inviarmi un augurio speciale oppure un salutino, un pensiero felice per il raggiungimento di questo traguardo del canale e qualcuno di voi l'ha fatto. Ho raccolto tutte le clip che mi avete mandato, spero di non averne dimenticata nessuna, e ho realizzato appunto un piccolissimo video in cui i protagonisti siete proprio voi. D'altra parte è giusto che sia così perché è ovviamente merito vostro se questo canale cresce e continua a produrre contenuti. E questo diciamo che è un po' la parte bella del progetto, la parte che mi piace e che mi dà la spinta a continuare e a fare sempre meglio il rapporto con voi, l'essere consapevole di far rilassare tante persone, farle stare bene anche solo con un video magari di 10 minuti. Ho deciso però di mostrarvi anche la parte nascosta, quella spiacevole, che caratterizza un po' del mio percorso qui su YouTube. Mi rendo conto che sia una scelta non convenzionale e proprio per questo motivo non ho incluso all'interno di questo video quella parte, ma potrete sceglierla alla fine cliccandoci sopra solo se lo volete. In quel video in particolare vi mostro i commenti spiacevoli, non quelli che mi fanno ridere e che molto spesso pubblico su Instagram che meritano anche delle risposte ironiche, sapete no? Quelli degli haters che però risultano anche un po' ridicoli. Voglio mostrarvi proprio quello che sono costretta a leggere ogni tanto quando decido di aprire la cartella dei commenti in revisione e vi avverto che quella non sarà una lettura proprio piacevole, quindi se siete particolarmente sensibili vi invito a non scegliere quel percorso. ci sarà anche l'unboxing, unboxing, 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 unboxing della famosa targa di YouTube, è contenuta qui dentro e però mostro troppo pochissimo. Naturalmente i suoni dell'unboxing, che spero siano rilassanti, saranno accompagnati dalla mia voce in whispering e anche un video bonus dedicato agli ultimi bloopers. Spero che vi piacciono queste idee e questi percorsi che ho deciso di proporvi per mostrarvi un po' cosa significhi essere arrivato fino a qui. Fatemelo sapere. E intanto vi mando dei bacini fatosi. Cliccate, 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 cliccate.